Chef che cosa ci stai preparando? Allora stiamo preparando uno spaghettone agli oli e peperoncino con colatura riserva armatore, limoni schitani e polvere di basilico. Chef, questa mia suocera è fare brutto, ma con questo posso non vendere mio marito per almeno un mese. La fine del mondo. Ragazzi complimenti. Grazie. Buon lavoro. Che poesia. Che crema. Cioccolata, cioccolata. Vai Ciro, prendi Ciro. Ciro, è crema. Crema e cioccolata. Buonasera Marina, buonasera. Come stai? Signori, prego. Grazie.